Uno dei metodi, la gru bianca spiega le ali, imita il volo della gru. I principi di questa tecnica di combattimento hanno influenzato le generazioni successive in tutta la Cina, che formularono tecniche basate sulle caratteristiche di molti altri animali. La sopravvivenza del più adatto, il principio della natura. Il coraggio i devoti a imparare le caratteristiche che ogni animale sfruttava per sopravvivere.